Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In Vibili per lavori si segnalano 3 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per questi lavori svincolo di Montelupo Fiorentino chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di Varico-Baccheraia e Aglio. Sempre verso nord rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Varico-Baccheraia. Code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A12 code a tratti per lavori tra Massa e Sarzana verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!